Ciao, sono in corso i mondiali, mi manca la nazionale, ho deciso di fare una ricerca che riguarda le due squadre più famose della mia città. C'è un derby che Inter e Milan si stanno giocando sul lato social. Davanti a loro hanno un pubblico di circa 50 milioni di spettatori, più o meno divisi in questo modo, 15 milioni per l'Inter, 35 milioni per il Milan. Quello che c'è in campo non è un pallone ma sono notizie, contenuti che vengono diramati attraverso post, video e news. Analizzando i video pubblicati dalle due squadre c'è una abissale differenza. I 35 milioni di follower milanisti hanno interagito per 500 mila visualizzazioni sul video di Paolo Maldini. I 15 milioni di interisti hanno interagito per un milione e 200 mila visualizzazioni sul video di Naigolan pubblicato dall'Inter. Non è tanto il numero dei follower ma è quanto il contenuto che tu riesci a pubblicare e l'interesse di quel contenuto, il valore di quel contenuto che viene premiato dalla base dei fan. È arrivato il momento di gestire i social network non in maniera ego riferita ma attraverso la produzione di contenuto. Ciao, alla prossima chicca!